...e ballerà esclusivamente per Pronto Raffaella, la più grande danzatrice sovietica, Maya Plitzeskaya. Per la coreografia di Mikhail Fokin, su musica tratta da Il Carnevale degli Animali, di Camille Sansan, la vedremo nella straordinaria interpretazione della morte del cigno, Maya Plitzeskaya. Grazie a tutti. 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 Naturalmente un grazie ancora alla grandissima, unica Maya Plitzeskaya con i nostri auguri di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.